Il potere di questo piccolo corno, questo anticristo, perseguiterà in particolare coloro che osservano i comandamenti di Dio. In Daniele 7, dove si dice che il potere del piccolo corno perseguiterà i santi, nella stessa frase viene detto, penserà di mutare i tempi e la legge. Penserà di mutare i tempi e la legge. Questo anticristo è un potere malvagio che attacca la legge di Cristo. L'anticristo non si sta semplicemente sbarazzando della legge di Dio, ma sta mettendo un'altra legge al suo posto. Daniele 7, 25, probabilmente offre una visione chiara di questo quando dice che penserà di mutare i tempi e la legge. In altre parole, non si sta sbarazzando della legge, sta prendendo la legge e la sta cambiando. In altre parole, non si sta sbarazzando della legge. In Daniele 7, abbiamo una successione di animali e dal quarto animale viene fuori un piccolo corno. Un potere che è molto aggressivo, che pensa di poter mutare i tempi e la legge. E in Daniele 7, 25, leggiamo Egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i Santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli e penserà di mutare i tempi e la legge. I Santi saranno dati nelle sue mani per un tempo dei tempi e la metà di un tempo. Fa guerra a Dio, fa guerra al popolo di Dio e uno dei modi in cui fa guerra sia a Dio sia al suo popolo è cercando di mutare i tempi e la legge. Non le leggi ordinarie, non i vari decreti di uno Stato o una città o persino un paese, ma proprio le leggi di Dio. Questa frase, i tempi e la legge, non si riferisce a due cose distinte. Dice i tempi perfino la legge. Quindi questo potere cercherà di mutare la legge, in particolare la parte temporale della legge. Dunque, per poter capire cosa intende la Bibbia quando dice che il piccolo corno cercherà di mutare i tempi e la legge, Daniele 7, 25, dobbiamo tornare indietro nella storia, nella storia della legge. E per farlo dobbiamo tornare al principio, alla Genesi. In Genesi 1 e 2 abbiamo la storia della creazione e in Genesi 3 abbiamo la storia della caduta dell'uomo, il peccato di Adamo ed Eva. Ma ciò che è così sorprendente è che il sabato in realtà fa parte della struttura basilare del pianeta, persino prima che il peccato abbia origine. L'idea che il sabato fosse stato istituito dagli ebrei o che abbia avuto origine sul monte Sinai, semplicemente non è vera. Il mio collega del Dipartimento dell'Antico Testamento, Niels Eric Andreassen, scrisse la sua tesi di dottorato sull'origine del sabato e cercò di rintracciare le sue radici negli scritti del vicino Oriente Antico, tra i babilonesi, i sumeri, tra gli accadi e tra i vari popoli del vicino Oriente Antico. E dopo aver cercato, cercato e cercato, dovete concludere la sua tesi dicendo, non è lì. Se leggete la letteratura accademica sul sabato, ovunque si afferma la stessa cosa, non abbiamo idea delle origini del sabato. A meno che non teniate conto di quanto dice la Bibbia. Genesi 1 ci mostra Dio come creatore. Dio dice, sia la luce, e la luce fu. Dio dice, vi sia un firmamento o uno spazio tra le acque, e fece il firmamento. Dio crea le cose con la parola. Sta creando la terra ferma, sta creando i mari e le creature che li popolano, i bellissimi alberi, la gloriosa terra che tutti conosciamo e amiamo. Certo è una terra decaduta ora, ma la terra era appena nata dalle mani del creatore al momento della creazione. Quando guardiamo la storia della creazione, Dio dice ripetutamente, era buono. Alla fine del primo giorno, era buono. Alla fine del secondo giorno, era buono. E così in tutta la storia della creazione, sino ad arrivare alla sua conclusione. Quando Dio controlla tutto ciò che ha visto e creato e dice, è molto buono. E poi Dio crea il sabato. E poi la Bibbia in Genesi 2, proprio all'inizio, Genesi 2, 1, 2, 3, dice che Dio si riposò dall'opera che aveva fatto. Si riposò. Questo è il settimo giorno della creazione in cui Lui non crea materialmente, facendo gli uccelli, facendo i mari o facendo la luce. Niente di tutto ciò. Lui riposa. E riposando crea il sabato. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Alcune persone si chiedono perché Dio dovrebbe riposarsi se non si stanca. Beh, per lo stesso motivo per cui Gesù fu battezzato. Vedete, il battesimo simboleggia il lavaggio dei nostri peccati. Proprio come fu battezzato Dio, sebbene fosse senza peccato, fu battezzato per dare a noi che siamo peccatori un esempio di purificazione attraverso il battesimo. Gesù era senza peccato, ma fu battezzato come esempio per noi, e Dio osservò il sabato come esempio per noi. Ed è una cosa magnifica che Dio stesso faccia qualcosa, fa da guida con il suo esempio. Una volta terminata la formazione della terra e averla popolata, abbiamo il coronamento della creazione, cioè uno spazio nel tempo, il sabato, che Dio ha dato all'umanità per godere di una continua esperienza con Lui. Quindi iniziò con la creazione della luce il primo giorno, poi superò questi sei giorni e si riposò il settimo, e poi benedì quel giorno. Dunque è associato a una speciale benedizione. E lo rese sacro, lo consacrò, lo santificò, qualunque parola vogliate usare, lo rese sacro, il che significa che ha una connessione speciale con Dio. Infatti, la parola sabato viene usata come verbo proprio in Genesi 2. Così furono terminati i cieli e la terra, e tutto il loro esercito. Verso 2 Lì, proprio all'inizio della creazione, vediamo Dio riposare, cessare la sua opera nel settimo giorno, prima del peccato. Dio non creò prima il sabato e poi disse, ok, mi servono alcune persone che osservino ciò che ho creato. No, prima creò l'essere umano e poi disse, e ora vi invito a riposare, vi faccio un dono, vi invito in un tempio sacro del tempo, dove potete cessare ogni vostro lavoro. Il sabato è un tempio nel tempo. Così come un tempio è un luogo sacro nello spazio, il sabato è un luogo sacro nel tempo. Quindi dovunque si trovi il popolo di Dio, non importa dove sia, che si nasconda in una grotta in qualche posto o che sia su un'isola deserta, può sempre avere un tempio, un tempio nel tempo, dove può essere con Dio. Crea il sabato come uno spazio nel tempo affinché la sua buona creazione possa goderne. Perché Dio è santo per definizione, e le cose sono sante solo nella misura in cui hanno una relazione con Dio. Siano esse persone, cose, luoghi o tempo, sono sante se appartengono a Lui. Quindi questo è un giorno che appartiene a Lui. Il sabato che troviamo in Genesi 1 e 2 in realtà avviene prima del peccato. Il peccato non compare sino a Genesi 3. Quindi in Genesi 1 e 2 abbiamo il sabato come un'istituzione precedente al peccato. Genesi 2 ci dice che il sabato risale alla creazione, e se il sabato risale alla creazione, allora è per l'intera razza umana. E questo è affascinante perché ci dice che il sabato non è una conseguenza del peccato o una risposta al peccato. Il sabato è qualcosa che precede, che viene prima del peccato, è parte del piano originale di Dio. La cosa notevole è che il sabato in realtà è parte della struttura basilare del pianeta, persino prima dell'origine del peccato. E questo è molto importante perché a volte le persone non vi prestano alcuna attenzione e pensano che il sabato sia semplicemente per gli ebrei sul Sinai. Ma nessuno immagina che Dio lo abbia benedetto all'inizio e bisognerebbe attendere duemila anni prima che l'uomo possa godere della benedizione? Questo non ha senso. Quando gli israeliti sul monte Sinai ricevettero i dieci comandamenti incisi sulla tavola è chiaro che già li stavano osservando al capitolo 16. Questo rivela che il sabato non era una novità quando furono date loro le tavole, ma al contrario lo stavano già celebrando. Ma al capitolo 20 vediamo Dio annunciare i dieci comandamenti sul monte Sinai e dal verso 8 al verso 11 abbiamo il comandamento del sabato. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo serbo, né la tua serba, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Tutta la famiglia riposa. Ciò significa che è uguale per tutti, uguale opportunità, compreso l'estraneo, la persona che convive con voi, che può non essere israelita. Questa persona deve riposare, così come i vostri animali. Quando Dio diede il comandamento del sabato, disse che io non devo lavorare. I miei figli non devono lavorare, l'estraneo non deve lavorare e nemmeno gli animali da allevamento devono lavorare. Quindi quando faccio lavorare qualcuno, lo sto letteralmente trattando peggio di come Dio si aspetta che io tratti il bestiame. Il sabato, quindi, è un segno di come riconosciamo che Lui è il perenne creatore e sostegno delle nostre vite. E quando riposiamo, riconosciamo il fatto che non dobbiamo lavorare perché Egli sta facendo il lavoro per noi. Fa sì che continuiamo a respirare, che tutto il resto funzioni. Fa sì che il mondo continui a girare. Non dobbiamo farlo noi. E quando celebro il sabato e do ad altri il privilegio di celebrarlo, sto restituendo loro quell'essenziale dignità umana che deriva dal riposo. Ora, quando leggiamo i Dieci Comandamenti, notiamo che solo uno è una legge che riguarda il tempo. Tenete a mente che il potere del piccolo corno cercherà di mutare i tempi e la legge o la parte temporale della legge. I Dieci Comandamenti rivelano quale legge verrà cambiata. Quindi, in effetti, osservando i Dieci Comandamenti, abbiamo quattro versi. 8, 9, 10 e 11. L'8, 9 e 10 in pratica ci dicono il cosa e l'11 ci dice il perché. Poiché, in sei giorni, l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare, eccetera. Quindi questo ci riporta a Genesi 1 e 2. Ricordate, in Genesi 2 si menziona per la prima volta nella Bibbia il sabato come settimo giorno. Dio, in quanto nostro Creatore, ha l'autorità di rendere sacro il sabato. Egli ha l'autorità di dirci quale giorno è sacro. Una delle domande che ci viene sempre fatta è Possiamo sapere quando è il sabato? E la risposta è sì. Possiamo sapere che giorno era il settimo giorno della settimana al tempo di Gesù. Perché quando Gesù morì, la Bibbia chiama il giorno in cui morì Gesù il giorno della preparazione. Gesù è appena morto. Poi la Bibbia dice E dopo averlo tirato giù dalla croce, il corpo di Gesù lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della preparazione e il sabato stava per cominciare. Uno dei più importanti testi sul sabato si trova al tempo in cui morì Gesù. Non è bellissimo? Non è significativo realizzare che la più chiara scrittura che ci dice quale giorno è il sabato sia incentrata sulla crocifissione di Gesù Cristo? Gesù osservò il sabato persino alla sua morte. In Luca 23, 44, leggiamo dell'ora sesta, che era a mezzogiorno. Si fece buio su tutto il paese. Gesù era appeso alla croce e fu buio fino all'ora nona, che sono circa le tre del pomeriggio. Quella è l'ora in cui morì Gesù. Ora, in che giorno Gesù morì sulla croce? Ovunque le persone conoscono quel giorno come venerdì santo. E poi il verso 54 dice «era il giorno della preparazione» e il sabato stava per cominciare. La parola preparazione è quella che viene usata in greco in riferimento al venerdì, che è il giorno della preparazione per il sabato. Si usa ancora nel greco moderno per parlare del venerdì come il giorno della preparazione. Quindi abbiamo Gesù che muore il venerdì santo. Abbiamo che resuscita il primo giorno della settimana, che chiamiamo Domenica di Pasqua. Tra questi due giorni c'è il giorno in cui i seguaci di Gesù osservano il sabato, secondo i comandamenti. Questo è assolutamente affascinante perché Luca scrive queste parole all'incirca tre decadi, almeno due e mezzo, probabilmente tre decadi, dopo l'ascensione di Gesù. Quindi ciò che sta dicendo qui è affascinante, cioè che le donne che iniziarono a imbalsamare, a preparare il corpo di Gesù il giorno della preparazione, cioè il venerdì santo, fermarono il loro lavoro, cessarono il loro lavoro, non lo portarono a termine. E dopo spiega il perché. Perché si riposarono durante il sabato, secondo il comandamento. Ma la Domenica di Pasqua, così la chiamiamo, Domenica di Pasqua, venerdì santo, qual è il giorno tra la Domenica di Pasqua e il venerdì santo? È il sabato. Il giorno del riposo, lo shabbat in ebraico. Sappiamo che il giorno del riposo è sabato. Perché possiamo correlarlo alla settimana di Pasqua, che è nel Nuovo Testamento. Quando Gesù viene messo a morte, sappiamo che è venerdì. Riposa nella tomba, che era appropriato, era morto, ma stava riposando. Il sabato, che era il settimo giorno della settimana. E poi dice esplicitamente, secondo la Bibbia, che il primo giorno della settimana è subito dopo, che è quando avviene la resurrezione. Ressuscitò il primo giorno della settimana. Quindi abbiamo queste chiare informazioni. Venerdì è il sesto giorno, il settimo giorno della settimana è sabato, Domenica è il primo giorno della settimana. E questo calendario è stato mantenuto nel calendario ebraico, in quello pagano. È chiaro che il settimo giorno della settimana è sabato. Al versetto 56 leggiamo delle donne che lo avevano seguito e che videro come il suo corpo veniva deposto nella tomba. Poi il verso 56 dice che poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti e durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Continuarono a osservare il sabato persino dopo la morte di Gesù. La morte di Gesù non cancellò il sabato. Il Vangelo di Luca può essere stato scritto al massimo intorno al 62 d.C., all'incirca più di 30 anni dopo gli eventi che sono descritti qui. E la cosa affascinante è che Luca, scrivendo circa 30 anni dopo l'avvenimento, dice «Ah, comunque quando osservarono il sabato lo fecero secondo il comandamento». Ma quale comandamento? Il comandamento del sabato, ovviamente. Se avesse voluto sottolineare che il sabato era stato cambiato sarebbe stato facile da fare. Avrebbe potuto dire che osservavano il sabato secondo le tradizioni ebraiche. Invece, dice, il sabato riposarono secondo il comandamento. Questa penso che sia una chiara prova per tutti che almeno 30-40 anni dopo Gesù i cristiani non solo osservavano il sabato ma lo facevano in obbedienza a Dio. Dio sapeva, Gesù sapeva che la sua gente, i suoi seguaci avrebbero osservato il sabato anche dopo la sua partenza. Un altro modo per avere un'idea chiara di che giorno cadrebbe nel nostro calendario il giorno di riposo è che in molte lingue, ad esempio in spagnolo, in francese, in arabo, il giorno che noi in inglese chiamiamo Saturday è chiamato sabato. In molte lingue del mondo, in più di 100 lingue nel mondo, la parola per sabato è sabato, sabat, sabado, in molte altre lingue. In pratica, il punto è che in inglese diciamo oh, mi chiedo che giorno sia il sabato perché il nostro giorno è Saturday. Ma per chiunque parli queste altre lingue del mondo è come chiedere che giorno è venerdì. È venerdì. Che giorno è? Sabato? È sabato. Un altro modo in cui possiamo determinare il giorno adeguato per celebrare il giorno di riposo è osservare gli ebrei. Gli ebrei hanno celebrato regolarmente il sabato ogni settimana, ogni settimo giorno, sin dalla nascita del popolo ebraico, più di 3500 anni fa. Quando arriviamo a Gesù, e questo è molte migliaia di anni dopo la narrazione della creazione, essendo Gesù Dio, certamente sapeva quale fosse il giorno di riposo, non c'è dubbio. Troviamo ripetutamente Gesù nel Nuovo Testamento. Luca, capitolo 4, Gesù entra in una sinagoga il sabato e si alza per leggere. Sapeva qual era il giorno di riposo. Quindi, se ci siamo riusciti attraverso vari millenni sino ai giorni di Gesù, dal tempo di Gesù ai giorni nostri, sono solo circa 2000 anni. Quindi, la domanda è, è possibile che abbiamo perso la cognizione del sabato nel periodo che va dal tempo di Gesù a oggi? La risposta è assolutamente no. Il ciclo settimanale che giorno e quale giorno non è mai cambiato, è semplicemente continuato perché il popolo ebraico non avrebbe permesso nessun simile cambiamento delle loro pratiche. Anche se il resto del mondo osservasse il settimo giorno della settimana, il martedì, il popolo ebraico continuerebbe a celebrare il sabato. Voglio dire, in qualsiasi momento della storia, ci sono milioni di ebrei che osservano il sabato, ebrei fedeli, orientati alla religione. Osservano il sabato in varie parti del mondo. Si sono diffusi. Per poter perdere la cognizione del sabato tutti quegli ebrei dovrebbero, in qualche modo, simultaneamente, sbagliare il giorno. Osservano il giorno del Signore oggi nello stesso giorno in cui lo osservavano ai tempi di Gesù e ai tempi di Mosè. E quel giorno, ripeto, è quello che noi chiamiamo sabato. Persino l'osservatorio navale a Washington DC ha commentato proprio su questo argomento. Ha scritto, abbiamo avuto occasione di analizzare le conclusioni di alcuni studi di specialisti in cronologia e non abbiamo mai trovato nessuno che avesse il minimo dubbio sulla continuità del ciclo settimanale da molto prima dell'epoca cristiana. E sia chiaro, uno dei compiti dell'osservatorio navale a Washington è tenere traccia del tempo. Queste persone sanno di cosa parlano. Se loro dicono che il ciclo della settimana, e non è che dicono soltanto non abbiamo perso la cognizione, dicono che non c'è alcun dubbio che non si sia persa la cognizione del ciclo settimanale. Perciò è insensato suggerire il contrario. Il popolo ebraico sapeva che il compito del Messia era rendere la legge grande e magnifica, per citare Isaia. Il popolo ebraico sapeva che, secondo Isaia 56, i figli degli estranei che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo. Uno dei ruoli del Messia sarebbe stato di venire e radunare a sé i gentili e dare loro le benedizioni universali che Dio voleva che l'intera umanità sperimentasse. In altre parole, Isaia sta prevedendo un periodo in cui il sabato non sarà soltanto osservato dai figli di Israele, ma sarà osservato da stranieri, da persone di background diversi che hanno imparato a conoscere Dio e seguono le sue vie. Gli stranieri, cioè i gentili, chiunque non sia ebreo. Qui in Isaia 56 c'è un appello. un appello accorato di Dio a chiunque non sia ebreo ad adottare il sabato. Uno dei miei passi preferiti sul sabato è nel Vangelo di Marco, proprio alla fine del secondo capitolo di Marco. Gesù era con i suoi discepoli. Era il giorno di sabato. Avevano aiutato i bisognosi tutto il giorno ed erano affamati. I discepoli avevano fame, stavano attraversando un campo di grano. A chi aveva fame o aveva bisogno era sempre consentito prendere un po' di cibo direttamente dal campo. Ma era sabato e quando i discepoli presero un po' di quel grano e iniziarono a sgranarlo con le mani per poterlo mangiare, i farisei erano lì ad accusarli. Immediatamente Gesù intervenne e in pratica disse a questi ipocriti e legalisti farisei sentite, il sabato è stato fatto per l'uomo. E Gesù dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Ma pensate a questa frase. Il sabato è fatto per l'uomo, letteralmente per l'umanità e la parola greca è antropos, antropos, da cui deriva la parola antropologia. E cos'è l'antropologia? È lo studio del genere umano, è lo studio della storia dell'uomo. Gesù dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato ed è un rimando alla creazione. Adamo non era ebreo, non c'era nessun ebreo. Adamo era, beh, Adamo ed Eva erano l'intera umanità. Quindi il sabato fu dato a loro in quanto rappresentanti di tutte le razze, non solo di una parte. Il sabato è fatto per l'uomo. Non è un precetto legalistico su cosa non puoi fare, è un giorno di riposo, un giorno di relax, è un giorno per connettersi con Dio, col prossimo, ed è un giorno in cui dobbiamo nutrire il nostro corpo, è un giorno in cui dobbiamo trovare riposo fisico e nutrimento fisico. Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Dicendo così, Gesù conclude che egli è il signore del sabato. Quindi Gesù non dice il sabato è fatto per gli ebrei, ma dice il sabato è fatto per antropos, per l'umanità. E questo è esattamente come Genesi 1 e 2 dove crea Adamo, che è la parola ebraica per genere umano, umanità, ed Eva, Adamo ed Eva. E cosa dà loro? Il sabato. Il sabato è fatto per l'umanità. è una benedizione anche per gli ebrei, certamente, nessuno lo metterebbe in dubbio, ma è una benedizione per gli ebrei per lo stesso motivo per cui è una benedizione per tutti, è fatto per tutto il genere umano, tanto ebrei quanto non ebrei. Questo verso ci mostra che il sabato non è solo per gli ebrei, è per l'umanità. E questo ci mostra che il sabato risale a molto prima di Mosè, risale persino a prima del peccato, risale ad Adamo e al piano originale di Dio per il genere umano. Quindi Gesù osservava il sabato. Allora non dovrebbe sorprenderci che anche i suoi seguaci lo osservassero. Quando arriviamo al Libro degli Atti, che è solo un altro modo per indicare le azioni della Chiesa, troviamo ripetutamente che il popolo di Dio, i discepoli, gli apostoli Paolo, Pietro e altri, osservano il sabato, il sabato di Dio. Per esempio, c'è una specifica storia che mi viene in mente in Atti 13, quando Paolo entra in una sinagoga e predica. Ora, quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. E dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e i pi proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. La Bibbia dice che predica il perdono dei peccati, che predica la giustificazione per fede, che predica il Vangelo. La cosa interessante di questo testo, una piccola cosa che potreste voler sapere, è che c'erano due tipi di persone nella sinagoga sin dal principio. C'erano gli israeliti, si dice all'inizio del capitolo, e poi voi che temete Dio. Questa espressione, voi che temete Dio, è ampiamente considerata dagli studiosi come un titolo speciale per i gentili che non erano diventati brei, che non si erano convertiti totalmente, che non erano stati circoncisi, ma amavano le scritture, amavano l'ebraismo. Ora, al tempo di Gesù, gli stranieri non erano ammessi. I gentili erano ammessi nel Tempio, solo nel cortile dei gentili e nel cortile delle donne, nel cortile degli uomini e nel cortile dei sacerdoti, e nel luogo santo e santissimo potevano entrare solo i sacerdoti. E quindi, quando Paolo lascia la sinagoga, i gentili vanno da lui e gli dicono Paolo, abbiamo sentito quelle parole, parleresti di quelle stesse cose a noi? E Paolo risponde, certo, venite il prossimo sabato. Ora, alcuni hanno suggerito che la domenica sia il nuovo giorno del Signore per la Chiesa Cristiana. Beh, questa è l'occasione perfetta per Paolo per dire a un gruppo di gentili, volete ascoltare il Vangelo? Volete sentire le buone notizie di Gesù Cristo, perdono e giustificazione, venite domani, che è il nuovo giorno del Signore. Ma lui non dice questo. Ascoltate queste parole, versetto 44, il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Il sabato successivo, avendolo invitato a tornare il sabato seguente per parlare, quasi l'intera città si radunò per ascoltarlo. Quindi, ebrei e gentili insieme si radunarono il sabato per ascoltare la parola di Dio da Paolo e Barnaba. Quindi sia gli ebrei, sia i gentili e certamente la Chiesa del Nuovo Testamento osservavano il sabato. Quando guardiamo Matteo 24, vediamo dei segni, segni della distruzione di Gerusalemme e un parallelismo con la fine del mondo. Verso la fine della vita di Gesù sulla terra, proprio prima di morire, egli sedette sul monte degli ulivi e i discepoli gli parlarono della gloria del Tempio, di quanto fosse bello. Con orgoglio i discepoli guardano il Tempio. Il Tempio di Gerusalemme era una delle sette meraviglie del mondo antico. Stanno mostrando a Gesù il Tempio e lui risponde dicendo In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Ma Gesù dice non resterà qui pietra su pietra. Dopo che Gesù dice questo, sembra che i discepoli siano totalmente meravigliati. Lo guardano e dicono dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. Probabilmente i discepoli pensarono che questa distruzione di Gerusalemme e la fine dei tempi sarebbero accadute nello stesso momento ma Gesù chiarisce in questo capitolo che ci sarà un'intera sequenza di avvenimenti. Quindi la prima parte del capitolo parla della generazione che sarà testimone della distruzione di Gerusalemme. e abbiamo tutti i segni nella prima parte del capitolo 24. Quando leggiamo la versione di Luca leggiamo degli eserciti romani che scendono e circondano Gerusalemme intorno al 70 dopo Cristo. Gesù guardando nel futuro e riconoscendo che Gerusalemme sarebbe stata distrutta intorno al 70 dopo Cristo dai Romani fece una profezia avvertì il suo popolo così che non perisse nella distruzione di Gerusalemme. E cosa consiglia dunque Gesù a coloro che si trovano a Gerusalemme quando gli eserciti circondano la città dice e pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato. Gesù scosta la cortina del tempo e rivela ai suoi discepoli che dovranno fuggire da Gerusalemme prima della distruzione nel 70 dopo Cristo. Sorprendentemente Gesù aggiunge che dovranno pregare che la loro fuga non accada d'inverno né di sabato. qui Gesù sta dicendo molto chiaramente che si aspetta che i suoi discepoli osservino il sabato 40 anni dopo la sua morte. Crede che saranno dei cristiani osservanti del sabato una generazione dopo che lui è morto e risorto ed è salito in cielo. In altre parole il sabato continuava a essere sacro anche nel 70 dopo Cristo e Gesù stava dicendo pregate che la vostra fuga non accada di sabato e non dobbiate lavorare di sabato per organizzare la fuga. Quindi il sabato è in vigore nel 70 dopo Cristo e il resto del capitolo va avanti sino alla seconda venuta di Cristo. È un quadro uniforme e nel mezzo di questo quadro c'è il messaggio del sabato. Non c'è niente che indichi l'abbandono del sabato o che non sia più rilevante per il popolo di Dio nel corso della storia della salvezza. Dio ha spiegato chiaramente molto chiaramente che credeva che i suoi discepoli avrebbero continuato a osservare il sabato sino alla fine dei tempi. Quindi una persona curiosa proprio come me questa era la domanda che mi ardeva nel cuore quando sentì per la prima volta il messaggio del sabato si chiede come abbiamo perso il sabato come è successo come si passa da secoli di osservanza del sabato da parte del popolo di Dio alla sua improvvisa scomparsa. Lasciatemi spiegare da un punto di vista di uno storico come avvenne in realtà questo cambiamento dal sabato alla domenica. All'inizio tutti i veri cristiani ed ebrei osservavano il settimo giorno del sabato ma gradualmente si verificò un cambiamento. Ci furono vari fattori all'inizio il cristianesimo fu visto come una setta ebraica i cristiani e gli ebrei osservavano lo stesso giorno ma col tempo avvenne un cambiamento nel primo secolo. E uno dei fattori fu che gli ebrei iniziarono a perseguitare i cristiani. Lo si nota già in Atti capitolo 8 che ci fu una grande persecuzione dei cristiani da parte degli ebrei. Tuttavia poiché gli ebrei avevano ampia libertà religiosa anche i cristiani essendo associati agli ebrei godevano di queste libertà. Tuttavia all'epoca di Nerone iniziò il cambiamento. Nerone fu accusato di aver dato fuoco alla città di Roma e generalmente in questo tipo di situazione il capo espiatorio sarebbero stati gli ebrei. Quindi la moglie di Nerone Pompea che era ebrea convertita all'ebraismo come poteva evitare che la sua gente gli ebrei fosse il capo espiatorio di Nerone? Cercarono di trovare un capo espiatorio e con l'aiuto degli ebrei il capo espiatorio si focalizzò allora sui cristiani. Infatti l'apostolo Paolo fu visto come una delle menti organizzatrici. e quindi da quel momento in poi i cristiani furono perseguitati iniziarono a usare i cristiani come torci umane all'ippodromo sapete alle corse dei cavalli. Lì Pietro fu crocifisso Paolo fu decapitato e col tempo i cristiani divennero oggetto di persecuzione. Ad ogni modo poiché i cristiani erano anche perseguitati dagli ebrei iniziarono a sentirsi molto a disagio con questi ultimi e venne pubblicata una grande quantità di testi antisemiti. Quindi gli ebrei furono sempre più perseguitati dai cristiani ma questi erano anche considerati parte degli ebrei perché anche loro osservavano il sabato e chiunque osservasse il sabato era considerato ebreo. Quindi i cristiani dovessero trovare una via d'uscita soprattutto nel secondo secolo durante l'impero di Adriano. Era così stanco degli ebrei che bandì la religione ebraica e i cristiani che osservavano il sabato facevano parte di un gruppo che venne bandito e perseguitato. Allora i cristiani a Roma iniziarono a cercare una via d'uscita e la migliore era non riunirsi il sabato ma la domenica. Io penso che la principale motivazione fu di distinguersi dagli ebrei con cui c'erano dei conflitti e che venivano etichettati e perseguitati nel contesto dell'impero romano. Stavano causando molti problemi all'impero romano lo sappiamo da Giuseppe Flavio la guerra giudaica e così via quindi ci fu un tentativo di distinguersi dal popolo ebraico. Ebbene i cristiani nello sforzo di non sembrare ebrei inizierono a osservare la domenica come giorno di celebrazione ma non fu osservato come giorno di riposo all'incirca sino al periodo di Costantino nel IV secolo. Con Costantino abbiamo la prima legge sulla celebrazione della domenica. Ora tenete presente che Costantino era un pagano proveniva da una famiglia di adoratori del sole. Notate come l'imperatore formulò la prima legge al mondo sull'osservanza della domenica. Nel venerabile giorno del sole si riposino i magistrati gli abitanti delle città e tutti i laboratori siano chiusi. Non di meno in campagna gli agricoltori potranno liberamente e legalmente continuare il loro lavoro visto che come spesso accade un altro giorno non sempre è propizio per la semina o per la cultura della vite e che negligendo questi lavori a tempo opportuno ne può derivare una perdita dei beni largiti dalla divinità. Questa in pratica riassumendo è una legge pagana è dedicata al venerabile giorno del sole quindi potete notare che la domenica è già venerata dai pagani potete notare il collegamento tra Costantino e il dio del sole guardando le antiche monete romane che furono coniate in quei giorni su un lato c'è Costantino e sull'altro c'è il dio del sole sole invictus il sole invitto qual è il vero motivo per cui fu scelto il primo giorno della settimana perché è il giorno della venerazione del sole ora non siamo nel campo del cristianesimo non siamo nel campo dell'ebraismo non siamo nel campo del monoteismo questo non è un concetto cristiano questo per l'imperatore romano è un mezzo politico per unire il suo impero pagano e cristiano sotto un'unica egida attraverso un compromesso e quindi si riconosceremo l'adorazione del sole ma trasferiremo questa adorazione al cristianesimo così il paganesimo entra dritto nella chiesa è brillante non è biblico dio non lo ha autorizzato non è legittimo non è giusto farlo ma politicamente fu molto ingegnoso ovviamente i leader della chiesa non furono contenti di questo e quindi poco dopo emanarono delle proprie leggi e misero in chiaro che questa era una legge di tipo religioso in onore del cristianesimo e non del paganesimo resero la domenica il giorno del signore e colui che lo fece uno dei primi questo papa silvestro all'epoca di costantino lo proclamò e così è nella bibbia però se ci si attiene strettamente alla bibbia il giorno del signore è il sabato questo è chiaro quando guardiamo agostino e riconosciamo che non aveva domande in quanto all'origine della celebrazione della domenica ascoltate cosa disse i santi dottori della chiesa hanno decretato che l'intera gloria del sabato ebraico è trasferita ad essa la domenica dunque osserviamo il giorno del signore allo stesso modo in cui era stato comandato agli antichi di osservare il sabato di nuovo chi fu responsabile di questo non Cristo ma i santi dottori della chiesa dunque osserviamo il giorno del signore quindi a quel tempo nella mente delle persone il giorno del signore è domenica non sabato è interessante il fatto che alcuni cristiani coscienziosi e io apprezzo la loro sincerità dicono beh David tu osservi il sabato come gli ebrei ma io osservo il giorno del signore leggiamo Apocalisse 1 10 mi trovai nello spirito Giovanni sta leggendo dall'isola di Patmos mi trovai nello spirito nel giorno del signore e udì dietro a me una forte voce come di una tromba ora Apocalisse 1 è l'unica volta in cui nella Bibbia viene usata l'espressione il giorno del signore però ci sono altre parti delle scritture in cui si usa una terminologia simile ad esempio Isaia 58 se tu trattieni il piede dal violare il mio santo giorno l'unico giorno che Dio ha mai chiamato così è il sabato da nessuna parte nella Bibbia trovate che il giorno del signore è la domenica il giorno del signore è chiaramente come si legge in Marco 2 il giorno del signore il giorno di Cristo è il sabato in realtà questa idea della domenica come giorno del signore viene fuori solo più avanti capisco che al giorno d'oggi nella lingua moderna molte persone pensano alla domenica come al giorno del signore ma se ci atteniamo solo alle scritture l'unico giorno possibile a cui ci si può riferire come al giorno del signore è il sabato in Daniele 7 a 25 la Bibbia dice che il potere del piccolo corno l'anticristo penserà di mutare i tempi e la legge come lo vediamo accadere come lo vediamo succedere la Bibbia indica che questo potere questo piccolo corno muterà i tempi e la legge ma cosa sono il tempo e la legge perché ogni nuovo potere cambia la legge è interessante che nei dieci comandamenti l'unica legge che ha a che fare con il tempo è il quarto comandamento il comandamento del sabato quando si pone la domanda chi è il potere di cambiare chi pretende di cambiare il giorno del sabato con la domenica la risposta almeno quella data dalla chiesa cattolica è noi c'è un potere chiaramente identificabile che esiste al mondo oggi ed esiste da molti secoli che rivendica questa autorità ed è la chiesa di Roma ed è nella letteratura è molto chiaro non è qualcosa di nascosto è qualcosa di cui la chiesa di Roma è orgogliosa questo prova la nostra autorità nel libro The Convert Catechism of Catholic Church si pone la domanda è sotto forma di domanda e risposta che giorno è il giorno di riposo risposta è il sabato domanda perché osserviamo la domenica invece del sabato risposta osserviamo la domenica invece del sabato perché la chiesa cattolica ha trasferito la sollennità del sabato alla domenica nel corso della storia della chiesa cristiana vediamo la chiesa la chiesa cattolica rivendicare il fatto che lei ha abbandonato il sabato il giorno che Dio ha benedetto e al suo posto affermare di rendere il primo giorno della settimana il momento del riposo per esempio James Gibbons nel suo libro La fede dei nostri padri scrive alla pagina 72-73 potreste leggere la Bibbia dalla Genesi sino all'Apocalisse e non trovereste ascoltate questo una singola riga che autorizzi la santificazione della domenica devo essere onesto questa è una delle cose che trovo in assoluto più interessanti e più trasparenti riguardo all'intera situazione sono assolutamente franchi hanno scritto apertamente su ciò che hanno fatto siamo noi che abbiamo cambiato il giorno dal sabato alla domenica padre O'Brien che fu professore all'università di Notre Dame scrisse un libro La fede dei cattolici in cui mostra che la Bibbia non è sufficiente per la religione cristiana per esempio dice la fede la fede dei cattolici ma dato che sabato non domenica è specificato nella Bibbia non è curioso che i non cattolici che affermano di prendere la loro religione direttamente dalla Bibbia e non dalla chiesa osservino la domenica invece del sabato sì certo è incoerente ma questo cambiamento fu fatto all'incirca quindici secoli prima della nascita del protestantesimo e a quel tempo l'usanza era osservata universalmente loro hanno mantenuto questa usanza sebbene si basi sull'autorità della chiesa cattolica e non su un esplicito testo nella Bibbia tale osservanza rimane come un ricordo della madre chiesa da cui le sette non cattoliche si separarono come un ragazzo che scappa da casa ma porta nella sua tasca una foto di sua madre o una ciocca dei suoi capelli quindi possiamo vedere chiaramente che se noi quali protestanti ci atteniamo strettamente alla Bibbia e solo alla Bibbia non c'è nessun fondamento nelle scritture per continuare a osservare la domenica qualcuno potrebbe essere propenso a dire se ciò che dice è vero se veramente è sabato e non domenica perché non l'abbiamo sentito e la risposta è che questo va avanti da centinaia e centinaia di anni voglio dire leggete questa citazione molto prima mille anni prima che nascesse il protestantesimo fu attuato questo cambiamento mille anni beh la riforma protestante avvenne attorno al quindicesimo o sedicesimo secolo quindi certo era esattamente corretto mille anni prima che ci fosse un protestante ma per quanto riguarda i 600 o 500 anni prima di questo giusto? il cambiamento avviene non in virtù di ciò che dicono le scritture ma in virtù di ciò che dice la Chiesa come storico quando guardo alle impressionanti prove che abbiamo nella storia riguardo al sabato e al cambiamento del sabato mi viene in mente un libro scritto nel diciannovesimo secolo plain talk about the protestantism of today del Monsignor Segur che fece questa osservazione l'osservanza della domenica da parte dei protestanti è un omaggio che rendono loro malgrado all'autorità della Chiesa Cattolica un omaggio che rendono loro malgrado se ci pensate ha senso ciò che l'autore sta dicendo qui e cioè un momento voi dite sola scrittura dite che per voi esiste la Bibbia e solo la Bibbia solo e soltanto le scritture ma poi a dispetto di questa affermazione rendete omaggio all'autorità della Chiesa Cattolica osservando un giorno che la Chiesa ha proclamato sacro che la Chiesa ha santificato il motivo per cui ne è orgogliosa è il fatto che tutto il resto del mondo cristiano persino i cristiani protestanti ad eccezione forse dei pochi osservanti del settimo giorno tutto il resto del mondo cristiano protestante che osserva la Domenica in tal modo secondo la Chiesa di Roma stava riconoscendo la sua autorità e il suo potere e penso che il punto di vista dell'autore debba essere considerato seriamente è un'osservazione molto valida ovvero come possiamo dire solo a scrittura ma poi a tenerci all'autorità della Chiesa nel luglio del 1519 Martin Lutero ebbe un dibattito con il dottor Eck ovviamente Martin Lutero era il fondatore della riforma e il dottor Eck era uno estremo difensore della fede cattolica al tempo e nel corso del dibattito si erano appoggiati sulla loro forte influenza sulla gente Lutero essenzialmente diceva che il dottor Eck non sapeva nulla sulle scritture ed era incapace di ascoltare le scritture dottor Eck in pratica affermava che lo stesso Lutero non seguiva le scritture e ciò provava che queste non erano l'autorità ultima per la chiesa infatti ascoltate queste parole del dottor Eck se ti allontani dalla chiesa verso le sue scritture allora devi osservare il sabato con gli ebrei che è stato osservato sin dall'inizio del mondo potete vederlo girare il coltello nella piaga mentre dice queste parole sta dicendo Lutero tu dici che io non so nulla sulle scritture dici che la chiesa va nella direzione sbagliata non seguendoti nella riforma ma tu stesso Lutero non serve il sabato e se realmente vuoi seguire solo e soltanto la Bibbia allora devi cominciare ora sapeva che Lutero non lo avrebbe fatto e quindi in questo senso vinse il dibattito dicendo che la tradizione più le scritture sono il vero fondamento della chiesa beh io non ci credo nemmeno per un attimo penso che il dottorek avesse ragione che il sabato sia insegnato nella Bibbia e se vogliamo attenerci solo alla Bibbia allora dobbiamo osservare il sabato e alla fin fine è a questo che si riduce la domanda è scritture o tradizione sono perfettamente onesti perfettamente sinceri sono perfettamente trasparenti noi abbiamo effettuato il cambiamento e le scritture sono assolutamente chiare non c'era un cambiamento a parte il fatto che veniva predetto un cambiamento un cambiamento profetico un passo profetico che dice che ci sarebbe stato un cambiamento ora io non sono stato cresciuto come osservante del sabato infatti sono cresciuto in una famiglia cattolica questa profezia in Daniele 7 fu decisiva per me ho studiato tutti questi vari versetti ho provato a individuare quale giorno fosse il giorno del Signore ho visto dalla Bibbia che era sabato e allora nella mia mente rimaneva solo una domanda come era cambiato e mi sono imbattuto in questa profezia alla fine di Daniele 7 che dice che è stato cambiato da questo potere e questa profezia prevede guarda un futuro cambiamento non un passato in altre parole a Daniele tramite l'ispirazione è stato detto di un cambiamento che sarebbe avvenuto la storia ha confermato quel cambiamento e io ho guardato indietro e ho visto sia la predizione sia gli atti che portano a compimento la profezia ed è stato decisivo per me spesso quando le persone si trovano davanti all'evidenza che il settimo giorno è realmente il sabato ne sono scioccate sono assolutamente scioccate ebbene non dovreste essere scioccati non lo dovreste essere affatto perché secondo Daniele 7,25 la Bibbia dice che l'anticristo penserà di mutare i tempi e la legge quindi se nessuno avesse provato a cambiare la legge di Dio allora sì che dovreste essere scioccati ma la Bibbia dice chiaramente che l'anticristo avrebbe tentato di cambiare la legge di Dio ed è proprio quello che stiamo vedendo e Daniele scrisse questo nel sesto secolo avanti Cristo e circa novecento anni più tardi troviamo il cambiamento del sabato al tempo di Costantino e poi avvenne un cambiamento ancora più grande negli anni seguenti esattamente come predisse Dio in Apocalisse 13 abbiamo una descrizione di quella che sarà la crisi finale è interessante in Apocalisse 12,17 viene introdotta la crisi finale dice il dragone allora si adirò contro la donna e se ne andò a far guerra col resto della progenie di lei che custodisce i comandamenti di Dio e dà la testimonianza di Gesù Cristo riassumendo questo testo il dragone che è simbolo di Satana è adirato con la donna cioè la chiesa che custodisce i comandamenti di Dio poi troviamo che viene perseguitata una donna che simboleggia il popolo di Dio è luminosa Apocalisse 13 poi descrive come Satana attraverso i suoi amici attacca la chiesa la conclusione di questo è Apocalisse 14,12 che dice qui è la costanza dei santi qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù e negli ultimi giorni si vedranno persone sul pianeta Terra che osservano la legge di Dio infatti c'è un messaggio proprio prima della fine dei tempi che viene annunciato a tutto il mondo poi vidi un altro angelo che aveva l'Evangelo Eterno da annunziare agli abitanti della Terra e ad ogni nazione tribù lingua e popolo e diceva a gran voce temete Dio e dategli gloria perché l'ora del suo giudizio è venuta quindi è un messaggio di giudizio adorate colui che ha fatto il cielo la Terra il mare e le fonti delle acque Apocalisse 14.7 è una citazione quasi parola per parola del comandamento del sabato il quarto comandamento in Esodo 20 è la più lunga citazione nel libro dell'Apocalisse nella versione greca dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento quelle due frasi in Apocalisse 14.7 e nei dieci comandamenti sono quasi identiche quando lui cita Esodo 20 in Apocalisse 14 e lo mette sotto la frase il Vangelo Eterno Dio ci sta dicendo che il sabato invece di un precetto dottrinale e legalistico che è stato dato agli ebrei è una parte vitale del Vangelo Eterno della salvezza che deve essere predicato a tutto il mondo il libro dell'Apocalisse al tempo di Giovanni profetizzò che il sabato sarebbe stato ristabilito e nei messaggi dei tre angeli è citato il comandamento del sabato e ora duemila anni più tardi alla fine dei tempi il sabato è stato riscoperto proprio come aveva predetto Giovanni quindi vediamo che ci sarà una crisi alla fine dei tempi una crisi incentrata sui comandamenti di Dio e sull'adorazione e nel cuore dell'appello di Dio ad adorarlo c'è un indizio per tornare al sabato qui è la costanza dei santi qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù quindi il popolo di Dio degli ultimi giorni sarà un popolo che osserva i comandamenti sarà un popolo che onora il patto fedele a quel patto quell'accordo matrimoniale che Dio ha con il suo popolo il sabato è un tempo uno spazio nel tempo per riposare per rilassarsi e passare del tempo in compagnia con Dio con credenti per passare del tempo e onorarlo e nella natura in famiglia il sabato non è altro che prendersi una pausa e riconcentrarsi ricaricarsi e risincronizzarsi con il nostro creatore con la nostra famiglia con il mondo reale intorno a noi a differenza degli altri comandamenti di tutti gli altri dieci comandamenti puoi mostrare la validità solo perché funzionano bene nella società è meglio riposare un giorno su sette ad esempio ma mostrare quale giorno è impossibile farlo con un esperimento scientifico può essere solo dimostrato perché Dio dice è questo giorno non importa se stai guardando la storia la storia degli ebrei se stai guardando l'astronomia non importa quale fronte tu stia guardando il ciclo settimanale oggi è lo stesso che era i giorni di Gesù e sappiamo che se stiamo osservando il giorno che osservava Gesù stiamo osservando il giorno giusto perché Gesù non fece mai nulla che potesse violare ciò che Dio aveva creato e comandato al principio non c'è dubbio se stiamo con Gesù siamo al sicuro ho realizzato che qualcosa di stupendo ci era stato portato via dal Vangelo Eterno il settimo giorno del sabato il segno che Dio è il nostro creatore il nostro redentore il nostro santificatore colui che ci dona riposo colui che ci ricrea un segno che ci chiama a riposare il suo regalo di salvezza smisi di discutere con Dio e accetta il sabato la scelta di Gesù la scelta è solamente la scelta è solamente nostra ci dice cosa vuole con il suo esempio con i suoi comandamenti ricordare il sabato attraverso il reiterato esempio di Gesù parlandoci dei buoni risultati benedicendo santificando il messaggio di avvertimento della fine dei tempi nel libro dell'Apocalisse ci dice tutte queste cose quando guardiamo tutte le prove sul sabato contenute nella Bibbia si riduce tutto alla domanda accettiamo queste prove? permettiamo alla parola di Dio di parlarci? usciamo e seguiamo ciò che sentiamo? la risposta possibile è soltanto una sarà la tradizione o saranno le scritture? per me le scritture molte volte viene fuori la domanda è mia nonna? è mio nonno? e i miei antenati che erano fedeli e devoti cristiani ma andavano in chiesa la domenica saranno perduti perché andavano in chiesa nel giorno sbagliato? la Bibbia è molto chiara sul fatto che Dio passa sopra alla nostra ignoranza significa che ignora non ci rinfaccia le cose di cui non siamo consapevoli tuttavia vuole che ci ravvediamo quando entriamo in contatto con nuova luce nuove verità o conoscenze ma Dio passa sopra ignora tutte quelle cose che noi non abbiamo capito è stato un atto di fede per me decidere seguirò ciò che Dio ha da dire non quello che l'uomo può avere da dire quello che la tradizione può avere da dire ma lascerò che questa parola sia la mia guida e la seguirò ovunque mi conduca ecco cosa ho fatto ecco perché osservo il settimo giorno del sabato perché sto cercando di essere fedele al comandamento di Dio alla fede di Gesù nel contesto del Vangelo sto gioendo nella bellezza del sabato pensateci all'inizio Dio diede il sabato durante la creazione poi il suo popolo lo osservò per tutto l'antico testamento poi viene Gesù e proprio come ha fatto nella creazione osserva il sabato e alla fine abbiamo una profezia che dice che il popolo di Dio lo osserverà nel nuovo cielo e nella nuova terra Isaia 66 descrive la celebrazione del sabato nei nuovi cieli e nella nuova terra che Dio creerà poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me dice l'Eterno così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome e avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me in questa profezia Isaia ci consente di vedere il futuro quando Dio crea nuovi cieli e una nuova terra e poi ci mostra che il popolo di Dio continuerà ad osservare il sabato e vediamo che quella visione globale del sabato ha portato a un bellissimo culmine in Isaia 66 dove Dio dice che creerà un nuovo cielo e una nuova terra e quando lo farà ogni carne si prostrerà davanti a Lui di sabato proprio come nella creazione il popolo di Dio osserva il sabato anche nella ricreazione il popolo di Dio osserverà il sabato per l'eternità questo è il culmine dell'originale intento di Dio cioè che l'intera umanità potesse gioire e beneficiare dal riposo ma alla fine tutto si riduce a ciò che vogliamo vogliamo servire Dio o vogliamo porre l'essere umano noi stessi inclusi sul trono dell'universo nell'Apocalisse l'ultima crisi è incentrata sull'adorazione sui comandamenti e sulla fede di Gesù in realtà la domanda alla fine dei tempi è darete a Dio il tipo di adorazione che ha chiesto porrete la vostra fede in Gesù e onorerete i suoi comandamenti alla fine queste sono le pressanti e conclusive domande alla fine dei tempi secondo il libro dell'Apocalisse alla fine si tratta di scegliere Dio ci offre delle scelte non ci forza ad ognuno di noi è dato di scegliere osserverò i comandamenti di Dio e la fede di Gesù di Dio Grazie a tutti.